Alla love, ola shiki, ola shiki, ciao gnocchi, ciao gnocchi, ciao belli, belloni Allora, avevo già fatto un pezzo di video che però ho torto, ho torto sono torto perché dovevo andare a mangiare e di conseguenza l'ho levato e ho detto, avrei visto che comunque volevo fare un'altra cosa, ho detto vabbè, ho giro un altro Allora, sono truccata da stamani mattina e il trucco non si è mosso di qua a parte naturalmente il lip che poi vi dirò ma questo benedetto spray della Glam Glow è a svolta io naturalmente non avevo mai allora, mettetevi l'anima in pace vegarbo con capelli sciolti ok, però non sperate che io non mi tocco capelli perché è una cosa che non è matematicamente possibile perché mi danno un fastidio in mane me le sono lavati oggi proprio parleremo di capelli e quindi se riesco magari a trovare una posizione che non mi dà troppo fastidio allora, poi dovete vedere che figa che sono nella realtà invece nel video faccio cagà perché comunque sono un cadavere e di qua so una sciccheria allora dunque, capelli lavati di oggi e quindi diciamo che ho detto vabbò, me ne tengo un po' sciolti e vabbè allora, sulle labbra avevo e vi ho messo una storia su Instagram il mio amatissimo brava, bra amatissimo Anarchy allora avete visto no? quando c'avete quei prodotti che oh mio Dio non lo uso perché ho paura che mi finisca cioè avevo quella felpa bianca con le orecchie che non me la sono mai messa per paura di sporcarla cioè a me ma che cazzo ma che cazzo di nuota in questo cervello non si sa però e per paura di finire il mio Anarchy me lo do pochissimo e invece mo me lo devo dare perché cioè ho tanti di quei lip che non finirà mai un lip cioè assolutamente e quindi oggi me lo sono messo la tragedia quale è stata che ci sono rimasta come un cane perché non ho né mangiato e né bevuto il lip tipo dopo un'ora e mezzo ha cominciato ad andarsene qua dentro ma qua dentro tira la si sa sono arrivata purtroppo a tornare verso casa che il prodotto se ne stava ad andare cioè allora io ho prodotti che boh della Kiko anche per esempio quelli della Kiko no? quelli bellini che mi carbano un sacco che c'è un sacco di colori che reggano tantissimo cioè boh non mi capacito il perché mi devo levare la statuta perché io mi sono messa visto che questo era il vestitino dell'ultimo dell'anno ve lo faccio vedere allora questo era il vestitino per l'ultimo dell'anno e io non l'ho portato perché non l'ultimo dell'anno siamo state a casa adesso vi faccio vedere le mie chiappe ok mi è venuto le chiappe tipo una sposa avete presente le spose ve le col culo immenso esatto allora e quindi io non mi capacito il perché questo benedetto lip non regga anche perché io della Nabla ho altri tre prodottini tipo coco quell'altri due che è morta a cinema mi ha mandato a cui mando un bacio gigantesco vi volevo fare il video dei prodotti che mi sono stati mandati questo colore è pessimo non lo so però un po' guardate la radice cioè mio dio che schifo e vi volevo fare quello lì però siccome vi voglio far vedere anche i colori e tutto insomma veniva un po' più lungo e ho detto vabbò insomma non lo so perché vi volevo fare questo dei capelli visto che adesso stanno un po' meglio mi avete detto tutte oioioi cioè se non smetto di toccarmeli muoio basta e non mi capacito insomma fatemi sapere se comunque a voi vi dura così poco perché gli altri a me così poco non durano allora il colore cioè fa panico veramente cioè uno dei colori più belli che io abbia nei mille mille lip che ho però allora qualcuna di voi mi ha detto ah mi hai dei capelli bellissimi ultimamente e cambia dei capelli che ultimamente fanno schifo perché i capelli prendono tantissimo come stai fisicamente se sei stressato, se sei agitato insomma siccome io ho avuto un periodo di merda i miei capelli stavano una merda erano molto molto stressati si vedeva che erano stra stra cioè le vedevi proprio opachi allora fatto sta che io mi tocco tantissimo i capelli anche se li vado a legare io poi quando li vado a legare li tocco per le galle e quindi il grasso delle mani mi sporca i capelli in maniera esagerata quindi è per questo che i miei capelli ulteriormente magari si sporcano un po' di più poi ultimamente sono migliorati molto perché comunque io sono migliorata molto anche di testa nel senso in maniera... sono molto molto meno stressata e quindi i miei capelli ne hanno risentito tantissimo però allo stesso tempo mi sto accorgendo che allora partiamo dal presupposto che ragazzi se fate tinte a capelli come facevo io allora io ho cominciato a farmi la prima tinta che avevo 14 cazzuti anni quindi sono passati circa... ne ho 32 fate i vostri conti mi sono sempre tinte a capelli quindi i miei capelli l'hanno accusata tantissimo qualcuno di voi mi ha detto che ho pochi capelli qua su ve li faccio vedere io ne ho pochissimi qua su aspetta 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 non so se li vedete comunque io la... la spiazzata la spiazzata l'ho sempre avuta perché comunque fra che l'ho di natura perché il babbo ce l'ha però l'ho sempre avuti comunque pochi capelli qua su non so perché fatto sta che l'ho sempre avuti e quindi quello non mi sconvolge perché lo so però fatto sta che... ora dico fatto sta va bene avevo fatto le trecce i rasta su tutte cose che comunque hanno rovinato i capelli ora tolte le trecce le ultime trecce avevo fatto che oltretutto mi hanno state fatte benissimo e non mi hanno sciupato per niente i capelli l'ho tolte e non avevo fatto quasi nessun nessuna tinta ne ho fatte pochissime perché veramente volevo vedere se i miei capelli poi l'accusavano così tanto qualcuna di voi mi chiede delle rasature io mi tolgo le rasature perché comunque qui sotto qua e qua ho due ritrose sia da una parte che dall'altra che quando ho i capelli mi fanno veramente così perché ho proprio le ritrosette e quindi la nascita delle due rasature poi è stata anche per questo e comunque sia se tingete molto meno capelli certo che il capello sta troppo meglio quindi io devo dire che ultimamente non mi voglio lamentare ora poi sono lavati di oggi quindi allora comunque vi faccio vedere che cosa nell'ultimo periodo mi ha aiutato moltissimo a sistemare i capelli allora la cosa miracolosa che ho preso e che vi posso garantire che è miracolosa veramente è questa allora questo è lo swisset si chiamano swisset capelli, pelle e unghie è un integratore è un integratore alimentare allora questo appunto ad alto contenuto di biotina zinco, capelli, pelle formazione del collagene questi costano una balla perché costano 23 euro eccoli qua e c'è anche i capelli da uomo che prende Valin ora io oramai sono in fondo ok che a parte che sono dei tromboni che veramente li fanno piglia male ok e allora l'ho preso per un bel pezzo e nel periodo in cui le prendevo stavano molto meglio me ne ero dimenticata ultimamente non li prendevo più e i miei capelli sono peggiorati tantissimo ora io non vorrei che succeda come quelle cose che smetti di prenderli e i capelli ripigliano quindi penso andrà così perché nel periodo in cui non le prendevo andava di merda comunque questi sono davvero miracolosi è un integratore io ne ho più che dopo mangiato va bene costa 23 euro però comunque a me mi è durato tanto quindi se dovesse essere questo il problema cioè che finiscano e che ti smerda capelli che appi te li ricompri e festa finita insomma quindi io devo dire che a me hanno aiutato moltissimo 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 cioè questo video non lo guarderà nessuno perché mi sto toccando siccome lo vediamo anche negli altri video che mi dava fastidio a me quando mi toccavo così tanto i capelli mi immagino a voi però ve lo giuro non mi riesco ma non perché non mi riesco a vedere è proprio un'abitudine che ho di toccarmi i capelli mi piace toccarmi i capelli cioè mi non lo so mi piace comunque basta allora veniamo allo shampoo ultimamente io stavo perdendo una marea di capelli a ciocche così uscita dalla doccia veramente una volta fece ad Aline cioè amo venire a vedere cioè mi era presa veramente di merda allora tutto ciò che facevamo noi le droghe che prendevamo ho scoperto dopo che comunque poi erano deretere per i capelli cioè c'è gente veramente rimasta pelata perché li perdevi cioè la droga che noi usavamo ti faceva perdere i capelli e quindi nel periodo in cui comunque gli si sono date secche i capelli li hanno accusati tantissimo allora oltre a questo c'era il cambio di stagione il cambio di stagione quindi quando castano castano sì ok quando cascano le castagne cascano i capelli quindi questa è una cosa che comunque è abbastanza riconosciuta allora cosa ho fatto ho detto vabbè andiamo a vedere se trovo uno shampoo che comunque sia per la caduta dei capelli ed ho trovato questo della Bepoint shampoo anticaduta dermo hair pro DNA system ok questo qua anche questo costa una balla non mi ricordo ma non credo che ve lo metta a fuoco vabbè allora ormai è finito e cosa dire di questo shampoo allora è vero che mi ha fatto cascare molto meno capelli però è un cesso di shampoo cioè nel senso per esempio lo shampoo quello della testa nera la keratina era fantastico anche se magari mi faceva cascare di più capelli cioè centromila volte meglio perché perché questo benedetto shampoo tutte le volte che io lo utilizzavo mi rendeva capelli una pappa cioè una pappa di paglia cioè me le secca tantissimo me li sfibra tantissimo ed è una cagata il problema è che appunto non facendoli cadere credevo che fosse no credevo era la cosa migliore anche perché tanto andavo ad abbozzare poi con le maschere e con i balsami ora io avevo il balsamo della testa nera e lo shampoo della testa nera che come sapete io consiglio a tutti ve l'avrei messo anche nel pro eh sì nel pro e contro nei promossi e bocciati del 2017 perché d'estate lo usate e sono sempre la cosa migliore comunque questo buono come anticaduta però preferisco prendere un appunto un testa nera la teratina che comunque me li sfibra molto meno e me li sciupa molto meno usato quello andavo comunque a darci la maschera allora io avevo questa perché avevo anche lo shampoo di questa linea che sarebbe quello per lisciare i capelli perché come sapete io di natura ce l'ho ricci e quindi poi le vado a stendere con il phon non uso la piastra perché li so fonare avendo fatto la parrucchiera però insomma cercavo roba che me la aiutaste e questo è maschera ziaro lisciante lisci cheratina dov'è la cheratina e la svolta e questo è così oramai è finito pure questo ti durano tantissimo queste maschere perché comunque ce ne basta pochissima che mi rinsavivano i capelli del della merda che faceva lo shampoo ok veniamo adesso ai prodotti dopo shampoo dopo lavaggio dunque il prodotto che è stata la svolta del 2017 è stato questo ce n'ho un altro giù che è nuovo ed è di un'altra marca questa è della Garnier invece quello è giù è della L'Oreal il prodotto il prodotto è questo olio repair tre crema burro non appesantisce burro di karité e tre oli di macadamia capelli molto secchi screspi e spenti allora questo qui è un trattamento senza risciacquo io lo uso dopo appunto averli lavati prendo una noce e la do sui capelli le rinsavisce perché appunto questi oli di macadamia che ci sono all'interno vi rinsaviscano i capelli tantissimo sono davvero davvero ottimi almeno questo è spettacolaro mi piace tantissimo non mi ricordo quanto costa comunque ci vuole veramente una piccola noce quindi cioè vi dura ora sempre dipende dalla lunghezza dei capelli che avete perché comunque sapete i capelli i miei ora stanno crescendo molto perché le ho tagliati sempre quando c'era la luna crescente che sembra una tazzata invece di vuol dire tantissimo ciao ciao ragazzi fatemi i capelli vi prego vi piacciono lo so è arrivata la balda comunque questi sono veramente veramente la svolta se non l'avete ancora provato fateli perché sì ciao non volevo dire se ancora non l'avete provato fatelo vabbè se non l'avete ancora provati fatelo perché veramente ne vale la pena tantissimo fatto questo cosa succede questo io lo faccio sempre dopo essermi lavato i capelli cosa faccio ci do questo allora questo qui è della testa nera ed è this eye repair asia strain spray lisciante praticamente questo è un luccicante dei capelli sempre capelli crespi e ribelli effetto anticrespo e protezione dai calori ah no questo è uno spray lisciante perché l'altro che c'avevo della testa nera era quello per farli luccicanti insomma avete capito luminosi io oramai come vedete anche questo è in fondo lo uso dall'estate do quattro pucciate e a posto insomma effetto di loto estratto di loto e senza di perla boh a me piace moltissimo pure questo fatto questo cosa faccio vado sulle punte allora questo prodotto che vi faccio vedere adesso chi mi segue da tanto l'aveva già visto perché l'avevo usato tantissimo tempo fa poi ho messo accantonato e ripreso allora io se mi ricordo mi sembra di averlo trovato al caddi o ad acqua e sapone allora questo che oramai vedete in fondo però anche di questo ci vuole due pucciate quindi niente è un fluido setificante per doppie punte e semi di lino allora cosa succede io questo lo do solo ed esclusivamente nelle parti in fondo quindi nelle doppie punte non lo do nella lunghezza dei capelli c'è la balda dietro cioè ve la devo fare vedi amore vieni si topino vieni amore vieni vieni da mamma vieni vieni balda amore amore si ecco la la gatta più bella del mondo stanotte è venuta qui cioè mi è venuta a letto mi si è messa qui proprio un trattorino allora quindi lo do soltanto sulle punte non sulla lunghezza perché comunque l'olio impasta ma vi leva qualsiasi doppia punta che avete nei capelli cioè io non so se riesco a farvelo vedere io non ho doppie punte perché comunque i capelli per adesso sono ben messi ma è veramente micidiale è è pazzesco cioè se vi capita di trovarlo non so quanto costa perché oramai è vecchio non me lo ricordo ma vi giuro che è la svolta se vi capita prendetelo perché ne vale non la pena tantissimo cioè vi fa rinascere perché io ho avuto un periodo che avevo un sacco di doppie punte vi rinascono i capelli cioè è una cosa bestiale fatto ciò tocchiappate dove ne hanno fatti le coccole fatto ciò gli ultimi due prodotti sono questi allora questi le uso un pochino così e così nel senso le uso alternandoli allora questo è quello della Dorn sono tutti e due della Dorn questo è lo spray protettivo per phone e piastra come vedete c'ha questo applicatore qui che comunque sono messi da di merda perché poi invece di vaporizzare fa più lo spruzzo allungato non mi piace e poi altrimenti c'è questo qui che è un anti crespo anti umidità anti umidità qui c'è scritto lacca no gas è una specie di lacca anti umidità che appunto va data con i capelli bagnati questo è nuovo l'ho comprato un po' di tempo fa ma non mi fa impazzire perché comunque mi impiastriccia parecchio capelli perché essendo una lacca amore cosa mi hai buttato per terra essendo una lacca me li impiastriccia troppo però se riuscite a dare magari qualche spruzzata o una o due spruzzate e riuscite bene a amalgamarli amalgamarla nei capelli non è malvagia perché comunque però di anti umidità io c'ho l'altro che ora l'ho di là porca miseria ve lo vado a prendere perché comunque lo uso e quindi ve lo devo far vedere però non lo uso tantissimo mentre questo devo dire che non è malvagio non te l'impiastriccia non fa come l'acca quindi questo ti serve per il phon o per la piastra ma io comunque sapendo utilizzare il phon non è che li brucio tantissimo però gli fa bene vi faccio vedere l'altro anti umidità allora un ottimo anti umidità che anche questo mi è durato tantissimo è questo qui della Fructis è un hidralis 72 ore perché mi dura tantissimo perché comunque ci vuole veramente anche di questo una mini noce perché essendo parecchio parecchio cremoso se ve ne date troppo sporcate i capelli più non posso e vi tocca praticamente poi rilavarli che fanno schifo poi quindi questo è eccezionale è ottimo come anti umidità nel senso io sono fortunata perché avendo fatto la parrucchiera riesco a farmi una bella piega però mi rendo conto che quando è parecchio umido specialmente va giù da me è spesso parecchio umido insomma se non c'è niente che comunque non hai qualche anti umidità i capelli fanno tipo leone no? mannaggia ma come cazzo faccio andare a girare così però devo dire che questo è buono vale valido e poi comincia ad avere il suo tempo a questo punto però devo dire che avendo un po' di 12 mesi dovrebbe essere scaduto da un pezzo ma per adesso ultimo prodotto che vi mostro è questo qui che lo stesso anche questo che mi guarda dai primi tempi dirà ancora ce l'hai ebbene si ce l'ho ancora allora questo è un prodotto particolare io ci ho messo tipo 2-3 anni a imparare ad usarlo allora questa è una maschera notturna allora programma di ricostruzione avanzata trattamento ricostruzione notturna allora è della keratinology per capelli danneggiati e trattati keratin microtechnology allora qual era il problema anche questo essendo in crema va veramente dato una quantità minuscola perché se voi ve lo date la sera prima una quantità troppo grossa voi vi ritrovate il giorno dopo comunque a dovervi fare lo shampoo perché i capelli fanno cagare perché sono veramente impiastricciati e vedevo gente che lo usava ma dicevo possibile e a me me li impiastricciava sempre perché ci vuole una cioè così proprio un dito proprio minuscolo perché altrimenti con la lunghezza che avevo io purtroppo faceva danno cioè invece di fare sì la maschera la faceva quindi li faceva bene però una volta dato io ero costretta a farmi la doccia quindi cosa facevo perché anche lavare troppo i capelli non gli fa assolutamente bene quindi se magari chi è fissata a lavarli troppo sappiate che non gli fa bene alla fine cosa facevo sapevo che il giorno dopo mi dovevo fare la doccia ora se non la smetto mi do una testata da sola sapevo che il giorno dopo mi dovevo fare la doccia la sera prima me lo mettevo anche bello abbondante facevo un bel trattamento e la mattina e il giorno dopo mi facevo la doccia quindi invece ultimamente appunto ho imparato ad utilizzarlo lo uso veramente pochissimo però comunque il giorno dopo vi dovete lavare la pellice vi potete fare una coda e porreggere un giorno in più però comunque è un prodotto che tendenzialmente andrebbe usato quando vi dovete poi lavare la pellice perché essendo una crema e dove essendo una crema che vi deve appunto fare da impacco notturno cioè è inutile metterci una seghina insomma fatevelo quando avete a farvi a doccia fate un bel impacco chissà se vi sono visto allora ultima cosa che vi faccio vedere è questa allora questi sono dei cristalli liquidi della vital care imperial argan trattamento ristrutturante allora io questo non l'ho ancora aperto però ve l'ho mostrato perché uno perché se qualcuno di voi l'ha provato fatemelo sapere l'ho preso al penny visto che al penny le cose costano un po' meno tipo questo costa sulle 3 euro mi sembra una cosa del genere gli ultimi cristalli liquidi che ho usato mi ci sono trovata benissimo ho detto capelli secchi danneggiati ho detto proviamo se fosse buono comunque è ben reperibile perché lo sapete qual è il mio problema prodotti buoni e che comunque te usi spesso devono essere reperibili perché la colla dell'essence mi piaceva così tanto perché costava poco ed era molto reperibile questa è una cosa che deve essere perché altrimenti se non è reperibile non ci fa in cazzo sta storia comunque fatemi sapere se l'avete provato io con gli ultimi cristalli liquidi mi sono trovata molto bene e questi comunque poi vi farò sapere basta prodotti terminati fatemi sapere se qualcuno di voi usa le capsuline fatemi sapere se avete provato questi prodottini spero di avervi tenuto un po' di compagnia naturalmente ho dei video in programma prima di lasciarvi non vi preoccupate comunque penso che andiamo via che andiamo via fra una settimana massimo due quindi io vi mando un grande bacio fate brave spippeggiate poco bilobbo e siete più siete il mio più grande sostegno sempre e comunque ciao morine